Abbiamo appena sconfitto Bahamut e un incantesimo lanciato da ultima che ha gettato una nera coltre su tutta Valistea. Valistea, un regno formato dai continenti gemelli. Valistea è un regno formato dai continenti gemelli. Ok, questo l'avevamo letto. Qui siamo con la storia principale ma dobbiamo praticamente... Ci sono delle missioni secondarie all'interno della storia principale, diciamo. Non è tutto, no? Aiutiamo il rifugio con Marta, è il suo problema. Dobbiamo aiutare un po' di persone dopo che il mondo è andato in caos. Allora... Allora, tu sei un po' di tempo. L'avevano con il nostro food e gill da giorni fa. Cosa idea dove sono andati? Il deserto è un grande place. La scuola è così buona come la mia. Ma il fatto è... Cosa è un problema più immediato? Cosa hai detto per me? Cosa hai detto? Ah, se per la magia. Allora, diciamo che abbiamo ancora avuto un consenso di come rispondere a Dallimel's piccolo problema. E a questo punto, non sarà le azioni dei banditi che provano essere il nostro nonno. È il nostro nostro. Allora... I've tried reasoning with the dissentive parties, but even the desert hair has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? Well, she makes a fair point, Cid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood. It's the only way. We hire mercenari and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenari are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenari, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Sid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Cosnes is in chaos. And the market of all but cease to operate. The Briars Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. Grazie mille Kido. Ma che bello, che bello. Poi quando mettete in pausa anche durante la storia, se noi schiacciamo il tasto centrale, possiamo vedere per l'appunto anche altre informazioni. se noi non sappiamo, non ci ricordiamo chi è Victor, non sappiamo chi c'è, chi è, possiamo cliccarci e ci dice amico di Sid e in seguito anche di Clive che veglia. Solandri rivieni ad Almelchia, dalla sua città natale. Cosnes. Sì. Sì, sì, dragone. Sì, sì, dragone. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime... Ah, here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad. Oh Dio, parlano molto molto lento, di conseguenza cerco di saltare un po', cioè non ascolto tutto. Come and the commander here from Canberra to inquire about it. Victor says you told him no, that there aren't any men left to hire. Is that true is the crystals cracked? Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Redwings. You know of the seven high houses. There must be two score swords assigned each one. Granted we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad. Are you saying that Dallam's finest cannot defend this town better than a gathered of hand of beardless youth could better avenge the deaths of your brave men than you? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle. Eh? And there's a reason why I had you do the talking and not said I'll play it, my lady. Ah, here he is now. Natalie, Ciao, Deco. To introduce Lord Underhill of Rundelar's prestigious... Lord Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Louvor says that not only are the granaries empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners could afford. Lord, it is only a matter of time before the peasants' revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores, meager though they regret. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense, Conrad, which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow... Che gioielli vistosi che hanno! Molto grandi e vistosi, direi. Thank you, Nive. Your performance was nothing if not... She saw right through it. I didn't say it was good. Barely that it produced the desired effect. Now, my scout should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss and we shall see what... I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. It appears I have no choice but to do it. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Good news. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted them. With time, they may even learn to... Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the... Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dallamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food. They want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups. One from the south and one from the desert. In a move, doubtless, intended to stretch our already possum earth end very well. Jill and I will meet those... All the rest, my friend, the city shall fight. Together, the stakes I concede are high. But if this does not unite Dallamil, nothing will. There is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throat but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that we'll hold them off for as long as we can. Allora, non mi piace questa... Non mi piace tanto il doppiaggio che hanno fatto a questo qua. Cioè, in questa missione qui sembra un po' troppe... boh, piatte. I doppiaggi. Di solito sono meglio. I'll take that one. It's all yours. I'll take that one. I'll take that one. See? I'll take that one. I'll take that one. It's all yours. Come on. They need you overwell us. Grazie. Oh, questo, ok, questo è un pochino più grande, giustamente. Era ora che arrivasse qualche nemico un po' più interessante. Stava attaccando il mio alleato? Stava attaccando il mio alleato. Credo che sia l'ultimo nemico rimasto. Allora, sicuramente è molto molto bello, ok? Da vedere, Bahamut, le sue abilità e tutto, le abilità, però come efficacia le vedo un po' deboli, però boh. Sì, ho visto, ho fatto caso. E' il raggio fortissimo contro il boss? Sì, probabilmente lo devo potenziare. Dovevo padroneggiare, portare il livello massimo. Grazie a tutti. Missione completata. Situazione abbastanza drammatica, la musica si è fatta a Cuba, si è fatta un po' ridondante. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 No, 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 no. pugno possente allora non urlano pugno possente ma urla bahamut salve hero blaze come va bene 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 grazie tante i non 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 Siamo con i guardiotti della flama. Wadesman? Ma come sei arrivato a essere qui? Onde è il tuo comandante? Sir Wades fu fuori prima con un scouting party per capire dove... Ditti. Prendi i vostri amici al l'inno. Martha verà che sei che hai chiesto. Siamo in un'on. Grazie a tutti La mia sveglia questa settimana è alle 5 Cucciolo Se non mi svegliano prima i gatti Cucciolo ti volevo coccolare nel mentre Mmm Oh Ad amanti Come possiamo provarci Are you with us to wait Always Then let's do our duty My turn Now togo Now togo Now togo Now togo una tartaruga gigante fortissima ad amanti è un classico mostro su Final Fantasy abbastanza frequente se non sempre presente no credo sì però non so i primissimi da quando ha fatto la sua comparsa ma di solito tendo a mettersela quasi sempre questa tartaruga buona contraddistinguono semplicemente cioè la storia è completamente diversa nel gameplay praticamente ognuno ha un gameplay un po' diverso l'uno dall'altro ma i nemici che si vanno a affrontare spesso sono molto simili la maggior parte diciamo sono simili e anche alcuni oggetti sono molto simili ci sono sempre classiche pozioni laser mega laser o queste cose qua diciamo coda di finisce è un altro oggetto che qua non ho ancora visto oppure c'è un accessorio che si chiama fiocco o non so e fanno hanno delle abilità particolari ma questo Final Fantasy è molto diverso dagli altri è un altro è un altro è un altro non credo e ancora hai un altro hai un altro mi ha riuscito è un'unica che mi ha riuscito in loro hai mai hai mai un altro che si chiama da l'unica so come ogni che che ha un altro vedo che sei che sei che sei una una parte Martha c'è qualcosa è qualcosa c'è qualcosa c'è una c'è una c'è una c'è una un'altra orde feel like finishing the job always Jill and I will make the east pool you'll need to move the engine don't you worry about them the moment my men are safe i'll follow they're headed for the rest we have to slow them down marker and the others won't be ready Grazie a tutti No, volevo lanciare questo E il problema è il tempo Eh già, eh già Concordo con te Il problema è trovare il tempo Per giocare a tutti questi Magnifici videogiochi che erano Rilasciano C'è qualcosa che è arrivato Anche le colonne sonore Spesso si ricordano l'una con l'altra Che gioco è? Grazie a tutti Grazie a tutti High 3 Oh non ce l'ho presente Zena affilata Setaccio cenere magica Classici Oggetti 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una bella storia Una bella storia Sciarpa dei guardiani Sciarpa dei guardiani Oggetto importante Simbolo di fiducia Di lealtà E amicizia eterna Finché la sciarpa della fenice Ok esibite nella camera di Clive Perciò un oggetto che non potevamo mancare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti